Partiamo. Allora inizia la sfida. Abbiamo 30 minuti. Inizia la lavagna. 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 Ma basta un bucato di grande. Si. Sì. 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 Sono colorato. Sì. Ascela. Sì. 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 Io penso che ci riesco Questa volta abbiamo forse il vincitore della stela Sì, io penso che ci riesco E... Condividiamo la diretta Direttamente dalla stela del giallo Di due chili Grazie 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 Grazie